Non parlare mai della maestra e non parlare con gli sconosciuti Se non mi conoscono, perché mi devono parlare? Tu fai come ti ho detto e basta Se tu ti dovessi perdere, che cosa fai? Cos'è che ti ho insegnato? Tengo una signora brava e chiamo la polizia Con il tuo numero che è 334-676 E dico la via che è Brescia Va benissimo E se invece si dovesse avvicinare a una persona che vuole portarti via, che cosa fai? Visto che vado a montagne, combatto Non puoi combattere solo Se una persona ti vuole portare via, cos'è che ti ho insegnato? Eh, io ho capito Li devo dire che non sono una bambina brava e piango sempre E le dico che la mia mamma e il papà mi hanno messo il GPS in ascolto Che poi chiamo la polizia Aspetta, il GPS che chiama la polizia? No, io la chiamo Il GPS a cos'è che serve? Allora, fa... Cos'è il telefono? Cos'è il telefono? Sì, sai dove sono? no